Buona domenica dalla redazione di Telemolise e benvenuti al nostro settimanale appuntamento con sette giorni di cronaca e del riepilogo dei principali fatti della settimana che si è appena chiusa. Oggi apriamo in realtà con un evento che si celebra proprio in questa giornata di domenica, ricorre infatti oggi la giornata nazionale del sollievo, un appuntamento importante per promuovere e testimoniare la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di chissà che la guarigione è difficile. Siamo andati con Andrea Nasillo all'Hospice di Larino, vediamo. Sono angeli che curano soprattutto l'anima e il cuore dei loro pazienti. Gli operatori dell'Hospice di Larino sono angeli e lo sanno bene Gabriele ed Elio, due dei 15 malati oncologici ricoverati nella struttura frentana. Li incontriamo attraverso un vetro dalla stanza ricavata per le famiglie nel tempo del Covid. I loro occhi sorridono, si può parlare tramite il telefono o alzando la voce. La terapia del sollievo è la loro forza. Insieme a Gabriele ed Elio ravvivano i corridoi anche tre cuccioli di cane, Leone e la nuova mascotte. Sono loro l'anima della pet therapy, un sostegno importante, rigenerante. Anche quest'anno, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, abbiamo colto l'occasione della giornata del sollievo per divulgare la filosofia delle cure palliative più possibile, in modo tale da arrivare ai cittadini e ricordare quanto sia importante questo aspetto della cura di una malattia che si prolunga nel tempo e che magari non può essere più suscettibile di cure mirate alla guarigione proprio della malattia. Ma questo non toglie che un aspetto fondamentale come la qualità di vita venga ancora cercata di raggiungere e di ottenere. All'ospice di Larino in questi mesi segnati dal Covid le restrizioni hanno reso ancora più difficili, la cura e il sollievo. Noi abbiamo sofferto molto dei limiti dovuti al Covid perché le strutture, le cure palliative sono basate sull'assistenza dei sanitari ma soprattutto sulla presenza di amici e familiari vicino all'ammalato che sono la risorsa forse più importante e principale. È chiaro che nel momento in cui si sono creati i pericoli dovuti al virus abbiamo dovuto blindare le nostre strutture, però nonostante questo alla fine dei ponti piano piano si sono creati tra l'esterno e l'interno. La giornata nazionale del sollievo, ha commentato il Presidente della Regione Donato Toma, costituisce un importante momento di riflessione su quanto sia fondamentale il rapporto umano con il paziente nelle cure palliative. Un rapporto totalizzante come quello che frate Giorgio Ramolo, assistente spirituale dei pazienti, aveva con un giovane di 30 anni. Lo seguì passo passo. Mi piace ricordare sempre la storia del nostro padre spirituale che con me ha iniziato l'avventura dell'ospice ormai nel 2010 che era padre Giorgio Ramolo che ebbe una storia con noi che è rimasta tatuata sul nostro cuore e che ci portiamo appresso ormai dai sette anni che sono passati dalla sua scomparsa. Avevamo quindi una situazione molto complessa da gestire di un giovane uomo, un trentenne che ebbe quindi un percorso duro sia a casa, a domicilio e poi nell'ultimo periodo qui da noi. La sua condivisione fu completa nel senso che gli ultimi istanti vissuti nel seguire questo ragazzo nel suo percorso duro di malattia. Dal suo punto di vista fu talmente intenso che purtroppo pure lui se ne andò in quello stesso giorno, in quella stessa notte in cui ci lasciò questo nostro caro ragazzo. E adesso parliamo del Covid. Come sapete da domani Molise sarà zona bianca dopo mesi difficili. cadono quasi tutte le restrizioni. Resterà solo l'obbligo di mascherina e di distanziamento. Per il resto si tornerà una vita pressoché normale e cade. Soprattutto il coprifuoco si potrà circolare liberamente da domani 24 ore su 24. Noi vi proponiamo adesso invece la testimonianza di chi è uscito dall'inferno del Covid. La testimonianza di Sergio Rago che da operatore sanitario è finito nel tunnel della malattia. in oltre 100 giorni tra terapia intensiva e riabilitazione. L'incontro, l'intervista di Barbara Fino. Oggi posso voler dire di ce l'ho fatta, ce l'ho fatta a sconvincere questa malattia che è una malattia devastante, una malattia che difficilmente lascia, ci lascia. Io mi ritengo infatti un miracolato. Sono queste le prime parole commoventi liberatorie del dottor Sergio Rago dopo un periodo di oltre 100 giorni che lui stesso definisce un calvario tra terapia intensiva e riabilitazione. Sono sopravvissuto. Appi colleghi che insieme a me hanno morto. Sono stati ricopriati nello stesso periodo. sono morto. E io devo sopra un po' al dottor Romero Frocco dell'archipide della terapia intensiva di Campopasso che mi ha letteralmente strappato a un destino in fausto. E poi ovviamente devo tutta la mia abitudine anche ai colleghi della ricerca america dopo il Consiglio e la professora Castagnaccio. Il dottor Sergio Rago racconta la sua storia che lo ha visto tra i principali artefici della prevenzione dal rischio Covid in Molise con le sue funzioni all'interno dell'ASREM regionale in cui si occupava della sorveglianza delle strutture sanitarie e sociosanitarie extra ospedaliere di tutto il distretto regionale elaborando e divulgando il protocollo operativo per la messa in sicurezza e prevenzione dell'infezione. Ma a febbraio, dopo quattro giorni dalla vaccinazione scopre di essere positivo al Covid-19. Il 18 febbraio inizia la sua drammatica esperienza. Poi io quando sono arrivato qui al liceo america mi sono autodefinito un burattino, un buppo siciliano le porafili che appena venivano lasciati si attrapposciava per perla avevo la tragotomia, ero dipendente dell'addossizio, non parlavo la lingua avevo paralizzata per cui non riuscivo nemmeno a decudire la saliva mi colava e non le nascondo che ho avuto diversi momenti di sconforto perché ho detto sì mi sono salvato dalla morte però che vita farò ora. Cento giorni vissuti nelle fasi devastanti del virus fino alla totale guarigione in cui oggi il dottor Rago lancia un forte appello. Sia un monito oppure uno stimolo a quelle persone che ancora oggi credono che il Covid non esiste che il Covid è una montatura mediatica fatta da remunerazioni per altri chissimi che è una banale influenza no, il Covid non è questo. Adesso parliamo della campagna vaccinale da poche ore, pochi giorni via alle prenotazioni anche per gli over 40 mentre all'inizio della settimana toccherà anche ai ragazzi di 18 e 19 anni che dovranno sostenere l'esame di maturità nei prossimi giorni poi atteso il via libera anche a tutte le altre fasce d'età. Resta qualche problema attorno al vaccino AstraZeneca e in Molise infatti sono molte le persone che decidono di rifiutare questo vaccino i medici rassicurano e invitano tutti a raccogliere appunto ad accettare i consigli dei medici prima delle somministrazioni. Vediamo. Discussioni che durano intere giornate qui davanti al centro vaccinale di Selvapiana a Campobasso dove in questi giorni si somministra esclusivamente AstraZeneca è un derby continuo tra chi è pronto a farsi somministrare la dose anglo-svedese e chi invece ha paura e rifiuta. Si dividono persino le famiglie davanti a noi il marito decide di vaccinarsi la moglie irremovibile conferma il suono anche al medico la percentuale è molto alta qui praticamente uno su due rinuncia ma c'è anche chi alla fine cambia idea. Ha deciso, lo farà AstraZeneca? Penso di sì. Si fida? Sì. L'ha fatto anche mio marito quindi... È stato bene, ha avuto qualche problema? Sì, anche mio cugnato tutti lo stanno facendo quindi penso che... non lo so oggi vediamo un po' cosa succederà. Ma io non è che non lo volessi fare ero conscia che per i farmaci che prendo quotidianamente ci fosse qualcosa che andava in contrasto con questo vaccino tant'è che la dottoressa il medico vaccinatore appena letto il farmaco che prendo ha detto no. Quindi è stato utile il confronto con il medico? Certo, ho accettato in attesa che poi il medico mi dicesse quello che io già supponevo. Mi richiameranno? Mi richiameranno loro, sì. No, ma io già lo dovevo fare parecchi giorni fa e poi per l'inconveniente mi hanno richiamato oggi. Adesso richiamo sotto ferragosto immagino? Sì, il 10 10 agosto, sì. Mi sono fidato quella c'era e quella mi sono fatta. Dovrà fare il richiamo? 10 agosto. I medici fanno il possibile per convincere le persone per questo sono fondamentali i colloqui che si fanno all'interno della struttura. Purtroppo l'informazione è stata data ora noi dobbiamo essere bravi tutti quanti a far sì che questo siero o questo vaccino come si può dire è tranquillo come tutti gli altri. Poi siamo noi a decidere se sì o no farlo ma venire già con una prevenzione di fondo o prevenuti per questo è sbagliato. Poi bisogna fidarsi del medico. Certamente questa è la cosa più importante perciò noi stiamo qui se no potremmo starcene a casa ma tutta la classe medica deve essere brava a dire alla gente di tranquillizzare che dobbiamo sconviggere la pandemia perché la morte da virus Covid è peggiore di qualunque tipo di effetto che potrebbe verificarsi. Senta dottor un'ultima domanda le persone che rinunciano ad AstraZeneca avanzano delle dosi qui ogni giorno che succede? Ma non vengono fatte allora se c'è il rifiuto e non è detto che poi il paziente venga fatto un altro tipo di vaccino rifiuto e può darsi che viene rifatto un'altra volta l'AstraZeneca il problema principale siamo noi a dire se lui è idoneo o non è idoneo se è idoneo lo fa se non è idoneo viene riprogrammato però non sappiamo quando come perché che cosa si farà certamente non AstraZeneca se però è nella condizione della non idoneità parliamo ancora di sanità perché nella giornata di ieri sabato da Termoli è arrivata la clamorosa per certi versi clamorosa decisione del direttore sanitario del Santimoteo Giovanni Serafini che si è dimesso dal suo incarico avete scelto la persona sbagliata scritto in una lettera ai vertici dell'Asdrem ogni soluzione che ho proposto è stata ignorata sentiamo un incarico durato due mesi dal prossimo 31 maggio Giovanni Serafini non sarà più direttore sanitario del Santimoteo si è dimesso una lettera inviata ai vertici dell'Asdrem senza spazio a interpretazioni la difficoltà di reggere due unità operative peraltro senza aver avuto quell'aiuto che fin dal primo momento mi era stato promesso è diventata insopportabile ha scritto Serafini i problemi continui dell'ospedale la cui soluzione non riesco ad ottenere la sensazione di un agitarmi inutilmente senza risultato diventando a poco a poco corresponsabile della situazione mi rendono insostenibile questo ruolo che mi ha allontanato dal lavoro per il quale sono qualificato e che ho praticato negli ultimi 36 anni Serafini scrive nero su bianco si è sentito alla guida di un'auto senza poter sapere dove sta andando e come ci si vuole andare tutto ciò probabilmente deriva scritto ancora dalla mia mancanza di preparazione specifica dal mio errato atteggiamento che nasce dall'abitudine clinica di chi di fronte a un problema lo analizza e cerca di trovare il prima possibile le modalità di risolverlo invece questo ospedale mi chiede di affrontare problemi cronicizzati ma ogni soluzione proposta o viene ignorata o contestata Serafini rivolgendosi ai vertici ASREM è diretto avrebbero sbagliato persona nella scelta dell'incarico si definisce più rappresentante un promotore delle esigenze dell'ospedale verso gli organi di governo che un funzionario intermedio che trasmette le decisioni Dicevamo pochi minuti fa delle riaperture con l'arrivo della zona bianca parte anche la stagione estiva a Termoli hanno riaperto i Lidi e gli operatori preannunciano una stagione con dati molto positivi vediamo voglia di sole di mare voglia voglia d'estate Termoli è pronta per la stagione 2021 che in realtà eccezionalmente quest'anno si è aperta già il 15 maggio sono passati dieci giorni in cui i balneatori hanno finito di sistemare le strutture la Capitaneria di Porto ha pubblicato nel frattempo l'ordinanza balneare che prevede le stesse regole entrate in vigore lo scorso anno sotto ogni ombrellone si potrà stare al massimo in quattro persone 5 se appartenenti allo stesso nucleo familiare i gestori dovranno annotare tutti gli ospiti su un apposito registro che conserveranno per almeno due settimane questi giorni sono andati molto bene c'è stata molta richiesta la gente ha voglia di uscire ha fame di libertà abbiamo avuto tante prenotazioni tant'è che fra un po' noi abbiamo quasi al completo i nostri ombrelloni ci sono già tutti i servizi garantiti ci sono già i campi da beach tennis i campi da beach volley e tutto quello che serve per garantire sicurezza prima di tutto distanziamento pulizia e igiene le regole del distanziamento sono sempre le stesse dell'anno scorso quindi ci sono tutti gli ombrelloni che sono sistemati a una distanza maggiore si sono sistemati secondo le regole che la capitaneria ci impone quindi noi diamo sempre una lettura e memoria di quello che c'è scritto sulla ordinanza c'è tanta voglia di normalità e di ritrovata libertà e c'è chi approfitta per una passeggiata chi invece prende il primo sole la fortuna di vivere in una città di mare primo giorno di mare come si sta oggi? benissimo questa mattina era un po' incerto il tempo però adesso si sta proprio bene che ne pensa dell'apertura della stagione anticipata? ma secondo me è una buona idea per rincominciare speriamo che quest'anno vada tutto bene secondo me sarà un'estate bella piena perché la gente ha voglia di uscire e di tornare a vivere speriamo che andrà tutto bene ha approfittato oggi di questa bella giornata? sì esatto io di solito la mattina mi faccio sempre una passeggiata lungo mare perché gratifico gli occhi e poi fa bene anche la salute che estate sarà secondo lei? io penso che ci sarà un boom penso che le persone come me non vedono l'ora di svagarsi di uscire da questi arresti domiciliari che finora abbiamo vissuto un po' tutti con una carica di ottimismo iniziamo questa prima giornata di mare come si sta oggi? si sta molto bene devo dire piacevole un leggero venticello insomma cominciamo bene mia mamma sta badando alla bimba quindi il relax è assicurato che estate sarà secondo lei? ma non lo so io spero sia come quella scorsa sinceramente c'è un po' più spensierata anche perché volendo diciamo che i vaccini sono iniziati stanno andando abbastanza bene specialmente la nostra regione quindi un po' di ottimismo in più rispetto alla scorsa estate io ce l'ho ci credo e adesso parliamo di incidenti sul lavoro lo scorso 7 maggio la tragedia di quell'operaio ricorderete che è precipitato mentre lavorava ad un viadotto sulla 14 nel territorio di Campomarino proprio in settimana i sindacati sono voluti tornare sul luogo di quella tragedia per commemorare quella persona quell'ennesima vittima degli incidenti sul lavoro il servizio Mario Traccinà aveva 55 anni il 7 maggio scorso l'operaio marchigiano padre di famiglia è precipitato da 30 metri stava lavorando sull'impalcatura sotto il ponte dell'A14 in territorio di Campomarino un tragico incidente sul lavoro l'ennesimo in Italia ancora una morte nel settore dell'edilizia e proprio in quel cantiere pochi giorni dopo i rappresentanti sindacali insieme ai colleghi dello sfortunato operaio hanno voluto portare una corona di fiori rimarcando forte l'accorato appello alla sicurezza l'inizio del 2021 fa registrare dati terribili noi chiediamo sicuramente più sicurezza più formazione possibilità per i lavoratori di avere la concretezza di tornare a casa ogni sera quindi avere una formazione che gli permetta di essere attenti e soprattutto di non avere problematiche così tragiche ma neanche con le lievi naturalmente noi come fillè abbiamo chiesto in tutte le sedi di concretizzare l'incidente l'infortunio sul lavoro come omicidio le richieste al governo hanno carattere nazionale i sindacati vogliono un piano di interventi che porti al rispetto della sicurezza e della salute sul lavoro della regolarità contrattuale della legalità noi chiediamo maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro perché è impensabile che nel 2021 si continua a morire in aziende in cantiere come questo oggi la statistica dice che dall'inizio dell'anno ad oggi sono circa due le morti al giorno per il lavoro ma non parliamo di itinere parliamo di incidenti avvenuti sui luoghi di lavoro senza calcolare tutto ciò che sono gli infortuni che avvengono quotidianamente noi abbiamo chiesto e chiediamo fortemente al governo un impegno superiore questa è una piaga è un problema sociale perché dietro queste morti ci sono sofferenze di famiglie di aziende di lavoratori il settore edile insieme a quello dell'agricoltura sono purtroppo i settori più tartassati dalle morti bianche in Italia e quindi anche nel nostro piccolo morisio purtroppo abbiamo avuto episodi simili qualche giorno fa ma anche guardando i dati di qualche anno fa purtroppo siamo stati anche noi martoriati da questi episodi la nostra azione del sindacato deve essere sempre quella di oltre dare solidarietà alle famiglie cercare di stare vicini all'immediato per la commemorazione dei propri cari cercare di mettere in campo tutte quelle azioni possibili sulla prevenzione la formazione la cultura della sicurezza che devono attenersi all'interno di un posto lavorativo e adesso invece andiamo a Busso dove la piccola comunità è stata sconvolta da un episodio accaduto qualche giorno fa l'avvelenamento di almeno cinque cani in paese cani che sono stati uccisi usando del liquido antigelo sono in corso le indagini dei carabinieri il servizio l'episodio risale a dieci giorni fa una strage di cani a Busso una piccola comunità sconvolta per un episodio che ha turbato tutti qualcuno avrebbe deciso di uccidere gli animali che circolavano in paese almeno cinque utilizzando del liquido blu probabilmente un antigelo mischiandolo con della pasta sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri il sindaco Michele Palmieri attende l'esito degli accertamenti sono in corso delle indagini perché io sono stato messo a conoscenza la mattina stessa insomma degli episodi vari episodi di avvelenamento di queste povere bestiole e ho invitato tutti i proprietari dei cani legittimi proprietari a sporgere regolare denuncia e loro mi hanno assicurato che l'hanno fatta il primo cittadino parla di azione odiosa e annuncia sin da ora che in un eventuale procedimento penale su quanto accaduto la sua amministrazione si costituirà parte civile il reato è chiaramente un reato odioso che noi stigmatizziamo con tutte le nostre forze però nello stesso tempo voglio in qualche modo tutelare l'immagine del mio paese e dei miei cittadini però io posso garantire che il comune è in prima linea nella lotta contro il randagismo ci siamo in qualche modo rivolti a tante associazioni animaliste per fare in modo che alcuni cani randaggi potessero essere adottati dalle famiglie e dal nostro insediamento dal 2017 non meno di una decina di cani sono stati sono stati adottati quindi abbiamo bypassato il passaggio in canile che è sempre traumatico per i cani oltretutto le posso dire anche che insomma il comune si è caricato con tutte le problematiche di bilancio che possiamo avere si è caricato anche di sterilizzare alcune cagnoline di microgipale insomma il comune non è inerte come posso dire anche che i miei concittadini rispetto alla problematica sono molto sensibili e quindi un episodio non può offuscare l'immagine di un intero paese questo ci tengo a dirlo e lo voglio dire con forza perché poi magari si può innescare il cosiddetto concetto di labelling in cui il comune di Busso il paese di Busso è il paese che avviene nei nancani non è così è un episodio diciamo che è unico e la settimana che si è appena conclusa per la comunità di Larino è stata la settimana di San Pardo il patrono di solito c'è la tradizionale sfilata dei carri quest'anno come è già accaduto del resto anche 12 mesi fa la comunità di Larino ha dovuto rinunciare a quel rito per via delle restrizioni del covid è stata però rispettata la tradizione in onore di San Pardo vediamo per il secondo anno consecutivo il covid ha fermato la processione l'immancabile sfilata dei carri per onorare San Pardo ma a Larino nel giorno di festa non sono mancate le emozioni se all'esterno della cattedrale le norme per evitare il contagio del virus hanno impedito grandi manifestazioni di entusiasmo all'interno della chiesa non è mancata la cerimonia solenne con tanto di toccante benedizione fuori la gente ha ascoltato la messa in filo diffusione all'interno diversi sindaci della zona vicini al primo cittadino di Larino Pino Puchetti numerose le autorità anche militari non è mancato il presidente della regione Donato Toma che ha auspicato presto il ritorno alla normalità a quella tradizione che la comunità ha sempre vissuto con gioia e condivisione sono espressioni indispensabili per comprendere fino in fondo ha detto il governatore la storia e le tradizioni del territorio sono una ricchezza immateriale culturale e sociale che va custodita gelosamente sia la messa del mattino che quella dedicata ai carrieri nel pomeriggio sono state ufficiate da Don Claudio Cianfaglioni che ha rivolto nei vari momenti della giornata un pensiero di fede al santo dell'Arinesi spesso al mattino ha detto aprendo le inferriate della sacristia trovo i segni del passaggio di qualcuno di voi che è passato a salutare San Pardo vi chiedo rivolgendosi ai carrieri di parlarmi con la vostra vita ogni giorno di San Pardo Larino sa aspettare con la speranza che il Covid sarà solo un brutto ricordo è forte la devozione da parte della nostra comunità verso il Santo Patrono quindi ci auguriamo che il prossimo anno potremmo insomma festeggiare la nostra festa come è stato fatto per tanti anni quindi io mi auguro che il prossimo anno non c'è più il problema Covid e finalmente i larinesi potranno esprimere i loro sentimenti e la loro devozione con fronte al loro Santo questa nostra festa si caratterizza per coinvolgere quasi tutte le famiglie perché tutte le famiglie hanno un carro di riferimento e quindi questo significa creare unità nella comunità e questo ci dà una grossa forza per insomma vivere anche il quotidiano e adesso parliamo di cinema perché dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno la Molise Film Commission molto attesa questa struttura per la realizzazione per favorire la realizzazione dei film in regione lo ha detto l'assessore regionale alla cultura Cotugno che ha anche preannunciato che quasi certamente sarà Elio Germano il testimonial del Molise sentiamo Tonino Danese lo slogan il Molise non esiste tormentone di qualche tempo fa alla fine è stato tra gli spot migliori per la nostra piccola terra l'anno scorso in estate complice la tregua concessa dal covid e il boom della vacanza in Italia in tanti hanno scoperto mare montagna cascate laghi fiumi ed eno gastronomia della ventesima regione del bel paese tante le iniziative nei piccoli comuni per invogliare la gente a venire con promozioni che hanno avuto successo e che sono state riproposte anche quest'anno con ottime prospettive per l'estate che si avvicina a grandi passi tanto c'è ancora da fare anche in termini infrastrutturali e di accoglienza per rendere più attrattivo e competitivo il Molise regioni associazioni amministrazioni operatori lavorano affinché ciò avvenga tra gli elementi di attrattività ci sono la cultura lo spettacolo il teatro e anche il cinema può giocare un ruolo fondamentale facilitare l'arrivo nel nostro territorio di produzioni cinematografiche che possano impiegare maestranze locali attori e richiamare grandi nomi è la chiave pure in termini di promozione il progetto della Molise Film Commission è tornato più attuale che mai come ha spiegato l'assessore regionale alla cultura e al turismo Vincenzo Cotugno ci stiamo lavorando in consiglio regionale in commissione stiamo facendo le audizioni sul territorio Federico lo sa bene contiamo di poterla licenziare entro il 2021 l'attore più rappresentativo con sangue molisano di Duronia e tra i più bravi e talentuosi della storia del nostro cinema è Elio Germano fresco di un altro David Di Donatello per l'ennesima fantastica interpretazione stavolta del pittore Antonio Ligabue lui si sente molisano come ha confermato il padre Giovanni Germano promotore da anni di cammina molise e di sicuro il suo apporto Elio alla terra d'origine non lo farà mancare magari anche girandovi un film se gliene sarà data l'occasione con le dovute imprescindibili garanzie per un attore del suo calibro Elio voglio dire voglio rimarcare questo è una delle tante energie molisane perché lui si considera molisano pur essendo nato a Roma che devono essere messi a frutto intanto sul tavolo c'è la proposta dell'assessore Cotugno stiamo in attesa di Elio Germano quale testimonial della regione molise per lo spot nazionale perché per la prima volta nella storia della regione molise noi saremo con una promozione territoriale sulle reti sulle reti nazionali con un grande testimoniale che dovrebbe essere Elio Germano dovrebbe perché lui ha dato la sua disponibilità solo che sta girando un film e quindi per via della sicurezza e delle restrizioni anti-Covid non è riuscito ancora a liberarsi per poter darci il suo volto e la sua voce e per chiudere parliamo dell'iniziativa di Macchiagodena che ha lanciato la proposta di vacanze gratis in cambio di un libro tantissime le adesioni arrivate tant'è che da giugno e fino a dicembre il paese si prepara ad accogliere moltissimi turisti dall'Italia e dall'estero vediamo una piazzetta con delle teche con libri e panchine con disegni che richiamano la cultura un panorama mozzafiato con il castello alle spalle un posto ideale dove fermarsi e fermare il tempo immergendosi magari nella lettura di un libro c'è poi un altro spazio dedicato ai libri per i più piccoli così Macchiagodena è diventato borgo della lettura per tutte le età con diverse iniziative e c'è un'iniziativa che ha fatto parlare i media di tutto il mondo il comune nei mesi scorsi ha infatti pubblicato sul sito il bando Genius Loci portami un libro e ti regalo l'anima in sostanza il turista residente fuori regione per godere di una vacanza gratis nel paese in una struttura convenzionata deve dare solo un piccolo simbolico obolo portare un libro con dedica da donare a Macchiagodena avevamo previsto la concessione di 100 vacanze ma poiché le richieste sono molto molto di più abbiamo dovuto ristrutturare l'offerta e abbiamo previsto la concessione di quasi 400 vacanze concesse a nuclei familiari di 5 persone circa una cinquantina di vacanze a 150 nuclei familiari formati da 4 persone e altrettanto da 3 persone più circa 20 ulteriori vacanze concesse a nuclei familiari formati da 2 persone e anche 4 vacanze a richiedenti singoli Alla chiusura del bando lo scorso 15 maggio le richieste di soggiorno gratuito arrivate online sono state all'incirca 1750 per non meno di 3500 persone che potranno soggiornare a Macchiagodena dalla metà di giugno fino alla metà di dicembre richieste provenienti da tutta Italia e tantissime anche da fuori fuori dal territorio nazionale e anche dall'America dal Brasile dal Brasile dall'Argentina noi regaliamo una vacanza di 4 giorni per chi sceglie di venire dal lunedì al giovedì e una vacanza di 3 giorni per chi sceglie di venire nel fine settimana venerdì, sabato e domenica ma l'obiettivo è proprio quello di mantenere la gente qui più a lungo possibile come vi state organizzando Sindaco? Ci sono stati incontri in questi giorni per rispondere al meglio alle tante richieste di soggiorno abbiamo già fatto un primo incontro con gli operatori turistici cioè quelli che poi devono ospitare queste persone e ci stiamo organizzando per avere un incontro con tutte quante le altre attività presenti sul territorio ci stiamo lavorando anche in accordo con le associazioni per far trovare una comunità pronta bene con Macchia Godena si chiude il nostro appuntamento di 7 giorni di cronaca io vi ringrazio per averci seguito l'appuntamento con il nostro riepidogo dei fatti della settimana torna domenica prossima grazie ancora buona domenica grazie a tutti